Benvenuti in questo nuovo video di Fortnite E questo oggi andiamo all'autorità Ovvero la nuova agency A prenderci la nuova drum gun Quindi il nuovo Tommy gun E il nuovo rampino Perché a quanto pare da ora in poi si prende lì Ed è stato modificato Migliore, peggiore, più scarso, più brutto Non si sa, non lo sappiamo Ma lo scopriremo Livello 1-1-1, supporta creditosta 23-17 Non so cosa c'entrava il collegamento Però secondo me era molto bello E da apprezzare E direi che possiamo iniziare Questa era anche una rima, ciao Pieno zeppo di gente Non vedo armi da prendere subito Uh, quelle smg contro sarebbe bello No, la devo lasciare a quello lì Mannaggia Quelli sono solo colpi Che poi non l'ha preso quello Ma pensate Viene basato da una guardia, penso Allora Vado, 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 vado Raga, ce ne ho 5 contro Raga, aiuto Uno gli ho fatto male Ma poi avevo guardie che mi sparavano Porca miseria, che paura Qua c'è qualcuno Uh, raga, gli ho fatto 190 con la nuova pompa What? What? No, la guardia no Non mi devo No, mi ha ucciso la guardia Raga, siete due di punibule anche voi Sì, che dobbiamo fare? Raga, qui c'era una cassa speciale, bello Mi sono messo vicino Eh, io, raga, muoio Forse riesce a restarmi, Marco Qua può esplodere tutto, raga Scappando a gambe levate Ma che si è arrivando uno forse No, non ho armi Io dai, non mi puoi sparare Ci avete di tutto Io non trovo niente Una pistola leggendaria Cosa me le devo fare Di una pistola leggendaria No, è incredibile sta cosa Cioè, non esiste Chi apre una cassa leggendaria Trova una pistola Con quelli che hanno pompa Pinovante Che più e l'anno e mezza O quello che c'ha Ah, se bambano Se becchi in testa Raga, fa tanto da Marchi di te È morto? Marchi non parla Vieni giù, vieni giù No, c'è uno con rampini Eh, c'è gente ovunque Marchi Ok, io sono messo malissimo Non devo dire male, Stefo Quello Bene Grazie Vieni Da questo qui è venuto Ha ucciso Piere Se ne è andato Eh, esatto Cioè, perché Marchi È bravo Altri Non pico Da mar Come funghi Sbucano Sì, è incredibile Assurdo Non abbiamo le armi leggendari, vero? Marchi si riesce a prendere la card Almeno poi ci pensate Guarda, c'ho 20 di vita Ci sto provando Arrivo Poi ci si pensa dopo C'è gente di cui 50 secondi È una sorta di cura o qualcosa Raga Perché guarda Sto a 13 di vita Ubbende Come il pane Uff Ragazza sta camperando soffrire Questo qua Davvero? Perché c'è la con me? È lì Stefano Di a sinistra Sta restando Che hanno arrestato persone ragazzi È apporto in chat Raga mi date una mano su questo Che arrivo È morto Bravo Alla roba Alla roba Alla roba leggendaria Sì 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 Però non ho la card Eccomi Ok Vediamo la card Adesso fare al volo Vediamo se ce la faccio Se no pensateci dopo È un casino Lascia perdere Quanto c'ho 20 di vita Adesso La game Faccio un medico Perché c'è gente che fight ancora Ve lo dico Eh sì Io con 20 di vita Non posso Con un compomba Con tre colpi Io mi stai tirando le bendine Marci Tieni un po' di bendine Vai Ok Raga chi ha la chiave Nessuno te l'ho detto Infatti nessuno Non c'è la chiave in giro Ah l'abbiamo persa proprio Sì Sa dove è finita Perché uno aveva Aveva il rampino Ma non la chiave Quindi Raga io se colpio Il pompa È 36 della R Andiamo andiamo via Andiamo via Chi potrebbe fare Non stai facendo free safe Sì sì Non so E stanno andando a parte opposta Di dove sparano Però raga Non riesco a salire Ma dai Ma davvero Oh Ma non facendo tirare Raga non possiamo pescare Dalla scuola e mangiarlo Sì sarebbe ottimo Che delirio Quel posto Cioè io non ce la faccio più A giocare lì Mamma mia Non riesco a salire raga Ve lo giuro Al momento autority Allucinante Comunque raga Dato che il rampino Sono l'unico Ave l'ho provato Ha un range fuori di testa Rispetto al vecchio Ma ti apre per forza Del coso Delta plana A me non piace Non riesce più neanche a parlare Damembo Ok Give me the Hold Grappler Teffo guardami Sì Ok che sta fa? È spaccia pesciolini lui Piesce che spaccia pesciolini Insomma raga Ha paura che mi fai con quei rumori Questo comunque mi apre In delta plano Quello del guffo Che si sblocca nel pass battaglia Quando si sta rampino Ah figo Guardate Vedete? Bello eh A me piace tanto quello È molto bello Mi fai con le R del pompa Per farlo Fermi 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 A me è sembrato solo uno Ho sbaglio Anche a me sembra uno A me sembra Lo giro d'attorno Stef Va bene Vabbè ragazzi Mi devo avvicinare Non nulla Cioè che devo fare 21 blu 31 blu Craccato La craccato Marco Si sta tirando Splash Ok Oh ragazzi Sono Un pompa Con quattro colpi È fatto Au È sceso Arrivando un team raga Un team indietro Raga arriva Gente Scappo T'ho compatto A rivederci raga Vai Stef Vai Stef Gli ho fatto perdere tempo Vado per la mia strada Non avevo più colpi Esci dal posto Con più player Della mappa Senza nulla Cioè Non voglio dire nulla Però sinceramente Abbiamo fatto match E zone invece Molto più loot Posso dare un colpo Così in amicizia Fermo Ma dai Era fermo due ore Quello ghost hit Ma era una guardia o no? No Era un play Che bello il fama Sì Il suono è bello Sono indeciso Se unirmi alla festa No Io Io me la giocherei Un pochettino Così Per il posizionamento In un'arena Dai raga Andiamo a giocarla Vai Stef Sono un gufetto Cioè io Questo lo fai C'è la Tommy Ah c'è l'amico Da restare Allora calmo però Fatti ottimo perché È indebolito Non ti ho fatto arrabbiare? Pochino Guardalo È crack Così sì Sta guardando Quanto scappa Stava giocando bene Avevo una porra di morirci tutto il tempo E adesso in questa versione bellissima Io devo rimanere senza vita Ottimo E lo sai che è così Non rompe Posso lamentarmi? No Secondo me posso Secondo me No secondo me È un tipo lamentare Davvero? Perché vi ho abbandonato? Eh sì So brutto Ma è che potete restarmi Comunque Sarei morto Beh guarda come sono ancora vivo Guarda sei proprio un campione Allora Beh comunque Tirate i medikit Cioè i medikit che roba Ma vi siete resi conto che Steffa ha preso l'ulto tipo 5 persone morte a 200 materiali totali? Esatto Ma no Sai Secondo me È una battuta acqua Perché c'è il nuovo materiale ora C'è l'acqua È un nuovo materiale Non hai bisogno di costruire È bello come materiale Quando c'è il po' Io devi far così Bravo Bravo Steffo Grazie Grazie C'è qualcuno? No Uno? Ok Ma avete visto dove chiude la zona? Totalmente in acqua Ma do Steffo Cioè dove stai? Ma dove c'è qua? Quello è lo yacht? Eh sì è lo yacht quello Allora No non è lo yacht Sì No È la base di te Ah sì è lo yacht Vai L'yacht Vaga lo yacht Faci Vabbè Beh comunque Sì vedete che c'è la sua La testa di Deadpool È lo yacht È proprio lui Quindi sta qui giù alla fine Ma è strano Non è proprio uno yacht Perché c'è proprio la base attorno Se guardate anche della mappa Lo yacht rotto Eh ha ricostruito uno yacht Dopo che li hanno spaccato Secondo me Quello è il tempo Sì vedi che c'è Sì 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 è ricostruito Vedi Lo yacht A mo' di base galleggiante Lo yacht Ragazzi c'è pure il party No Vedete la musica Però sarebbe bello Se ci fosse anche qua Tipo una sorta di cavo Beh quel che vuoi qua Puoi anche vederlo Beh già Questo non è male È certo Io Non li butto Bello che alla fine sta qui Ce lo dobbiamo ricordare Sta tutto in alto Ah ma questo Si può tirare Secondo me sì Non tropevo Si potesse trovare Sì perché li trovi in giro Sono nelle cacce Io pensavo però Che lì ci fosse solo Cosa è per vita Ma C'è anche Chris Chris Per farla Fata la testa Ma è qua Era qua di solito Ma non si capisce nulla È tutto diverso Era tipo qua Secondo me Quante casse ci sono Molte Tantissime Eccolo il cavo No non è vero No non era il cavo Era dalla parte opposta Esatto No No Non mi ricordo raga Forse non c'è Però non era qui Qui dove c'erano le barche Per scappare Dalla parte opposta Dalla parte opposta Sento un'altra cesta Va bene Era qua Dopo questa porta Se c'è Altrimenti non c'è Non c'è Bello Non c'è vedi Oddio no Qui c'è il party Forse sto andando qua Vediamo C'è Ma aspetta però Eh però questo è un cavo aperto Steph Ma Non questo Da questa parte Capito No Sai che cos'è Secondo me l'hanno lasciato così Esatto È lasciato così Dalla mappa Ok Sì non l'ha aperto nessuno È lasciato così Anche perché poi il posto Non è Il posto non è lootato ragazzi Quindi Ma sai ho 200 colpi Ma c'è anche una cassa leggendaria Stavate player vivi Sì esattamente Al centro della zona Guarda Sì lo yacht è tutto rotto Io pensavo L'avessero tolto Bel pompa No io l'avevo visto Tipo al primo match Cos'è la strumare Non lo so Air drop Però se è al centro della zona E anche l'elicottero Eventualmente è per scappare Quindi si è messo In un'ottima posizione Guarda un player Che ti arriva Steph A sinistra In acqua Che nuota Lo vedi? Mamma mia Bene Eh iniziano ad arrivare Steph È l'unico posto Solido Dove si può stare Nella zona Lasciola prendere Boric Lasciola prendere Sì perché va dritto Dritto va Vai È un attimo Dove deve star ferma Vabbè Insparabile Va sotto È letteralmente È l'unico posto Dove si può stare Ragazzi Perché il resto È tutto acqua Ti vedi? Ora ti fanno L'assalto Steph Quanto è fastidio Dei tale agente Che nuota Tantissimo Beh di iniziare a abituarti E in tre mesi Per giocare così Non ci credo Due Cento Cento Ottanta Con tre hit Non ha avuto Una buona mire Sinceramente In silenzio Così come gli infami Non mi aspettavo Il giretto No vabbè È anche normale Ti ripeto Sono tutti qua La zona è ancora piena acqua Cioè tra un po' Non puoi stare Neanche nello yacht Vorrei capire Come si dovrebbe giocare A questo endgame Non si può neanche costruire Non puoi neanche costruire In acqua Quindi come dovresti Collegandoti Eh certo Come fa quello Vedi Devi fare Tutta la piattaforma Quindi quella Non aveva vita Ok Vabbè Raga Picnic Beh una televidentina Così al volo No guarda Non penso ci sia bisogno Cavolo dovresti trovarti Delle cure Altro che Due lì sono Non so chi sparano Io odio quelli Ah Hai capito Sì Sparali Sparali Povero Io odio talmente Tanto Adesso quello Prende la card E ci arriva Capito Sì Tra due minuti Però È scarico Tanto No no Quello certo Però faceva molto Ridere Sparate alle spalle Maledetti Che zona Steph Ma io dico Ah Beh Che dire Non è entrato Un hit Scherzante Bello con lo squalo Non può mozzicare Qualcuno Lo squalo Guarda sto infame Bravo Bravo Che ansia raga Mamma mia Che match strano Del campioncino Sì Non so neanche Vole cosa dire Perché è proprio Stranissimo Adesso se lo avranno Tutti con te Perché sei alto Poi magari Non muore nessuno No È sempre Su l'agground Eh Steph Dovrebbe spostarsi E trovare delle cure Eh sì C'erano sotto i Le splash Ma mi sa che la prese No Raga Non so perché Qua fa billare malissimo Sì Sì Non so cosa avevo buttato Gli scillini Guarda Quanto si sta buggando Che disastro Raga Guardate la zona No No ma non si può Raga Sta cosa non si può Ma non puoi fare Che chiude lì Però Cioè Poi capisco Che era C'è tanta acqua Però Non così Con calma Belli materiali Poi Giuseppe D'altronde Oggi ho fatto tutto il game Con mille 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 Perché ne spreca Così tanti Dite no Scusatemi Salva mia Cioè Poi avete pure Gli squali Che adesso Attaccheranno le strutture Quando inizia a spostarsi Cioè È assurdo Ragazzi Cioè Adesso vedi che lo attacca Allo squalo Guarda E lo sbalza via Cioè che gameplay è No ma non ha senso Sta cosa Non ha senso Mi sono emozionato Eh ho notato Steph Ma quello non ha capito niente Anche quello Anche quello Si è emozionato E anche questo Questo gli sta bene Uh Bello Che match Poi non vuole nessuno Sopra i 6 Va bene Ma siamo in arena raga Si Che tira è grande Bravo E muore quello Siete in tre Io non l'ho sentito questo Nenche io Nenche io Ma Mi temazzo Accidenti Ma sono Sì 1 1 1 Siete Dici Vabbè A chi stanno sparando Altrimenti O pensano che tu stia ancora su Eh No è troppo Guarda stanno continuando a costruire Rompere e costruire No stop Perché questa roba Non si sente niente Ma dai Vabbè Ma che zona brutta Non mi dai maz Non mi dai Mi metti in acqua E succede questo Raga comunque abbiamo fatto anche fin troppo Per questo match Esatto Comunque le armi mitiche interessanti Drum gun più forte di prima probabilmente E rampino Utilità diversa Cioè ti muove di più Ma meno utilizzabile in fight Perché ti apre l'eltaplano Quindi ti fa prendere l'elite Credo che sia un bilanciamento Soprattutto per il competitive Quindi comunque interessante Ci fermiamo così per questo video Sotto come altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 ciao